Vieni che andiamo a bere. Andiamo a bere. Allora signori, un momentino d'attenzione che lo fa, lo chef, il risotto, come è fatto, come dovete mangiarlo e come dovete digerirlo. Un attimo che vi passo. Bueno, no, certo. Oh, abbiamo andato anche il sangue noi che fanno di un po' il ruolo, eh? Quindi adesso voi andate a sapore, a sentire il profumo, potete andare a casa. Va bene. Allora, 11, eh? Torniamo. Comunque come viene pronto, vi avvisiamo. Buono. 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 Grazie a tutti. Wow! Wow!